È stata veramente bella, poi vedere un film del genere con i ragazzi anche in sala, insomma è qualcosa che è importante, che è fondamentale ma anche perché senti veramente in diretta le vibrazioni e le sensazioni di tutto il pubblico e anche l'accoglienza è stata veramente bella e trovo importante questo rapporto che c'è col territorio, con i ragazzi e che il Festival sta cercando di portare avanti una cosa importante. Conoscevi già il Festival, per sentito dire? Sì, lo conoscevo bene perché vengo dal cortometraggio, quindi per il corto è un festival importante, fondamentale quindi ho tanti colleghi che hanno partecipato e l'ho tenuto sott'occhio per molti anni, quindi lo conoscevo già sono contenta insomma di arrivarci adesso con un lungometraggio dopo tutti questi tre lunghi anni di corti che ho passato.